Buongiorno Friuli da Audi News TV, la nostra rassegna stampa, la nostra prima ora di diretta assieme come di consueto con la lettura dei quotidiani e prime pagine di quelli nazionali che oggi ci presentano una panoramica sui gravi incendi sviluppati in Grecia, ma non solo si continua a parlare di tensioni nel governo e di politica estera e poi verremo ai temi locali tra cronaca e politica. Prima di farlo però il consueto sguardo alla situazione del traffico sulle nostre autostrade dopo quella di ieri, l'ennesima giornata intensa e ricca di incidenti, quest'oggi la situazione si presenta attualmente tranquilla, ci sono alcuni incolonamenti all'abivio di Palmanova, ci sono i consueti rallentamenti per i lavori della terza corsia. Per quanto riguarda poi l'autostrada A23, la Palmanova, Udine e Tarvisio, anche in questo caso alcuni restringimenti tra Udine Nord e Udine Sud per dei lavori. Questa dunque è la situazione del traffico, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali con la partenza che ci porta sul Corriere della Sera. Questo il titolo di apertura, strage tra i roghi di Atene. Teniamo 100 morti, focolai, forse dolosi, Tsipras, l'Europa ci aiuti, le fiamme a nord-est della capitale, le testimonianze inseguiti dal fuoco fino al mare. Vedete una delle immagini apocalittiche che arrivano proprio dalla Grecia. 74, i morti accertati, sino ad ora oltre 500, i feriti, un paese cancellato dal fuoco. Il dramma degli incendi che ha messo in ginocchio il paese ellenico potrebbe avere origine dolose. Ci sono anche alcune delle testimonianze presentate oggi dalla Corriere della Sera. Salve le figlie di Angelopoulos, lo scrittore Marcaris, e poi tagliati i mezzi antincendio, uno degli effetti dell'austerità che ha visto protagonista il paese ellenico dopo le note vicende legate alla crisi del paese ai rapporti con l'Unione Europea. Le altre notizie che troviamo sulla prima della Corriere, il decreto dignità, i 600 industriali veneti, il governo ci rovina, rivolta contro le nuove norme proposte dall'esecutivo giallo-verde. E poi ancora no a elemosine sui migranti, Salvini e Conte bocciano il piano dell'Unione Europea. Di taglio basso invece un'altra storia, i porno ricatti via mail in tutta Italia, colpiti imprenditori uomini dello Stato, paga, abbiamo un video con i tuoi segreti. E ancora la protesta degli agricoltori, scontri e forconi, fermato il tour, questo accade in Francia. Lasciamo le prime pagine del Corriere della Sera e ci spostiamo su quella di Repubblica con un'altra foto emblematica che sta girando molto in questi giorni, proprio dalla Grecia, questa selva di auto andate a fuoco. Il titolo di Repubblica, strage ad Atene inseguiti dal fuoco fino al mare, 100 morti in Grecia. E poi a centro pagina si parla di politica italiana, pronta la stretta anticorrotti. Il ministro Bonafede, riforma epocale contro le tangenti, intercettazioni no alla legge Bavaglio del PD. Scontro 5 Stelle e Salvini sul Tg1, per il direttore generale della Rai, favorito Salini. Sul tema Ilva, invece, Di Maio dice via l'iter per l'annullamento della gara. Questo è il condensato della giornata politica di ieri. Da Repubblica vi segnaliamo anche un'intervista a Tom Cruise. Mission Impossible, la mia sfida a 56 anni senza controfigure. Devo divertirmi sul set, dice l'attore. La velocità e la mia droga sono più adrenalinico del mio personaggio. Da Repubblica ci spostiamo ora su Libero. Il titolo di apertura parla di Rom. Hanno vinto i Rom perché vietato sgomberare i campi. La Corte Europea impedisce ai sindaci di far sloggiare i nomadi abusivi. Prima bisogna trovare loro casa. L'Unione Europea propone di darci 6 mila euro a profugo accolto. Salvini dice tenetevi le mance e anche gli immigrati. Di taglio alto gli esteri con l'incendio in Grecia. Salviamo chi annega e non quelli che bruciano. La devastante rogo in Grecia. Si temono oltre 100 morti, centinaia i feriti. A centro pagina invece si ritorna sui nuovi vertici di Fiat. La manager che piace a John Elkan, Susanne, capo dei trattori Fiat. Poi c'è anche l'editoriale di Vittorio Feltri sull'agonia di Marchionne. Più che del fumo, colpa della sfiga. E ancora di taglio basso altre notizie da Libero. Pazienza record. Sposi da 70 anni. La storia di una coppia veneziana. E ancora a forza di lacrime e preghiere. Crolla perfino il muro del pianto. Si stacca una pietra di 100 chili. Questo accade in Israele. Da Libero ci spostiamo sul giornale dove ritroviamo di taglio alto sempre una foto che ci presenta i gravi incendi in Grecia. Un inferno viene definito così. 100 morti nei roghi fra i turisti al mare a 40 chilometri di Atene. Poi anche le testimonianze abbracciate fino all'ultimo se il corpo dice più delle parole. E' questa appunto una delle immagini più struggenti dei cadaveri ritrovati in spiaggia. Anche il giornale dedica la propria apertura alla questione Rom. Vincono i Rom in Porsche. Sgombero vietato a Roma. Rifiutano 800 euro al mese per lasciare il campo e l'Europa li difende. Bruxelles ci fa l'elemosina. 6 mila euro a migrante. A centropagina poi slitta il decreto dignità. Voucher vince Forza Italia. Toninelli blocca la TAV. Disgustosa. E c'è anche la foto che raffigura Laura Boldrini, leader di Liberi Uguali, alla crociata contro il crocifisso. La Lega dice obbligatorio a scuola. Di taglio basso sul giornale. Andiamo a Milano. La velocità di Milano spiegata da un negozio apre l'Apple Store in piazza Liberty. Vi mostriamo ora la prima pagina del foglio con diversi spunti, diversi commenti. Partiamo da quello che si presenta a centropagina. Sì, il contratto di governo è carta straccia. Le promesse populiste dipendono dall'aumento del deficit. Tria ha detto che non ci sarà scenari di una crisi sovramista. E poi ancora di taglio alto l'editoriale a firma di Giulio Menotti. Un imam invoca la morte degli ebrei e inaugura moschee. L'altro parla con Israele e minacciato di morte. Pazzo multiculturalismo. Così scrive il foglio. Ci trasferiamo ora sul fatto quotidiano. L'apertura è dedicata alle nomine che continuano a tenere sotto scacco il governo. Rai, forza, lega, riesuma del noce. L'epurato che cacciò Enzo Biagi. Dopo il vento 5 stelle sulla bianchi clerici. Presidente. Questo è il nome che si fa per quanto riguarda le nomine ai vertici Rai. Di taglio alto ancora la politica, la giustizia. Ielo difende Woodcock. Niente scontri fra noi. Il procuratore aggiunto smonta le accuse al CSM sul caso Consip. Mentre Renzi viene preso di mira nuovamente per la sua nuova villa. Ha firmato il rogito ora e sua. L'altro ieri dal notaio per la casa da 1,3 milioni di euro. Anche sul fatto il richiamo agli incendi in Grecia. Atene brucia come Pompei. 74 morti e migliaia di feriti. Era la prima pagina del fatto. Ci trasferiamo ora sulla stampa. Anche in questo caso la foto a centropagina ci racconta un'altra istantanea di quanto stanno patendo turisti e abitanti in Grecia. L'inferno arriva sulla spiaggia. Le fiamme hanno fatto 100 vittime. A centropagina invece Mattarella che blinda a Tria per prevenire la crisi. Il Colle convoca Conte e i presidenti delle Camere. Rispettare i vincoli dell'Unione Europea. Dalla prima pagina della stampa ci spostiamo sul manifesto. Altra foto d'impatto. A centropagina le ceneri di Atene. In fiamme lattica orientale. 74 vittime ma si cerca ancora tra le case del villaggio di Mati. Divorato dal fuoco. Centinaia i feriti. Migliaia gli sfollati. Il governo greco non esclude l'ipotesi dolosa ma oggi è il giorno di unità nazionale. Tre i giorni di lutto proclamati. Di taglio alto il decreto dignità. Scontro al vertice con rinvio. Decreto a passo di gambero. La protesta dei sindacati contro i voucher alla Camera e poi le intercettazioni. La legge è bloccata. Bonafede che dice no ai bavagli sulla stampa. Continua la nostra carrellata con la verità che in prima pagina propone Saviano. Altri richiedenti asilo che menano e stuprano invece il titolo di apertura. Il sistema dell'accoglienza non funziona. A Reggio Emilia un aspirante rifugiato ha selvaggiamente picchiato e violentato una ragazza di 24 anni. A Piacenza invece la vittima ha appena 9 anni. Per loro nessuno sfila con le magliette rosse. Dicevamo di Saviano la verità scrive in crisi di idee ridotto a scrivere appelli. E poi a centro pagina il disastro Madia. Cause perse e costi stellari. L'inchiesta sull'abolizione del corpo forestale voluta dall'ex ministro la stiamo pagando carissima. Vitalio Basso, un altro tema che avevamo trovato su altri quotidiani. La croce nei luoghi pubblici ci ridà la forza. La proposta di legge da valutare con favore. Una proposta di legge lanciata dalla Lega. Chiudiamo con il sole 24 ore. I temi economici. La prima pagina. C'è l'ILVA che tiene banco sul tavolo di Di Maio all'annullamento della gara. Perché ci sono appunto Arcelor Mittal che accetta tutte le richieste in materia ambientale. Il ministro dice avviro il procedimento per cancellare l'aggiudicazione. Oggi prosegue il confronto con il gruppo siderurgico. Un mese per decidere. E poi a centro pagina la foto a Milano. Il megastore dell'App Economy. La flagship Apple dà lavoro a 230 persone. Questa era la prima pagina del sole 24 ore. Ci spostiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani locali per andare a vedere quali sono i temi che interessano da vicino la nostra regione. Partiamo con il messaggero Veneto che in apertura parla dell'incontro avvenuto ieri a Roma. alla mise sulla questione dei risparmiatori traditi dalle popolari venete. I rimborsi del crack. C'è un altro rinvio. Le associazioni dei consumatori vittime dei default hanno incontrato i rappresentanti del governo. La norma è da riscrivere ma i tempi si allungano ancora. I portavoce dicono 100 milioni non basteranno. Di taglio alto invece c'è il presidente regionale dell'Accordiretti Ermacora che annuncia l'addio all'associazione e dice le aziende lavorino insieme. Giovedì ci sarà l'elezione del suo successore. A centropagina il messaggero propone un'altra istantanea dell'incendio in Grecia e riporta anche i racconti dei turisti friulani che sono rimasti loro malgrado protagonisti di questi episodi. Dalla città e dalla provincia le notizie che ci arrivano. Multa in centro Fontanini chiede aiuto al prefetto, il nuovo prefetto Angelo Ciumi, l'incontro con il primo cittadino. E poi Mercato Vecchio è già un parcheggio ma così non piace. Dopo il disegno delle nuove strisce blu dei parcheggi ci sono già le prime auto che iniziano a posizionarsi sull'arteria. A San Giovanni Annatisone invece ladri alla stazione di servizio danneggiati per 5 mila euro. Questo è accaduto appunto a un distributore. E ancora i dettagli dell'operazione dei carabinieri di Palmanova sulle sonde rubate, che erano destinate al mercato nero in Colombia. Di taglio basso lo sport, un'anticipazione Francesco, il figlio dell'ex premier e il provino all'Udinese. L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, classe 2001, figlio dell'ex premier Matteo, da ieri in prova con la squadra primavera bianco-nera. In casi come questi il classico chissà se lo manda papà può scapparci. E come questo quanto scrive il messaggero Veneto andremo ad approfondirlo nella nostra parte di rassegna sportiva. Andiamo ora ad approfondire questi temi che abbiamo trovato in prima pagina partendo dall'incontro sui truffati e risparmio tradito avvenuto a Roma. Il governo è orientato a scrivere un nuovo decreto che dovrà essere approvato dalle camere, ma i tempi si allungano. Vedete due delle immagini dell'incontro di ieri con i sottosegretari all'economia Bitonci e Villarosa e i rappresentanti dell'associazione tra cui le friulane Barbara Venuti e Barbara Puschiasis. Quanti sono i soci e ex soci di queste banche interessati? Sono più di 15 mila in Friuli Venezia Giulia. Le opzioni sul tavolo che sono uscite dal vertice secondo le dichiarazioni del sottosegretario Bitonci. Il provvedimento vedrà la luce a settembre. Daremo ai risparmiatori una risposta in tempi veloci, ha dichiarato. Allo studio c'è anche un'altra ipotesi di soluzione più rapida, ma le associazioni dei consumatori si dicono preoccupate da questi rinvii. Nella pagina a fianco il messaggero fa il punto con i dati sul credito alle imprese e le domande che ripartono. In Friuli Venezia Giulia cresce a 1,5% ma su valori modesti. Le società di capitali sono le più dinamiche, le maggiori richieste arrivano dalle piccole e medie imprese, forti differenze territoriali con Udine che perde il 2,8% e Pordenone che guadagna il 10,8%. Questi i dati riassunti anche in alcune tabelle. Per quanto riguarda poi le successive pagine interne del messaggero vi proponiamo i temi regionali. Ieri seconda giornata di Consiglio regionale per l'assestamento di bilancio, la cosiddetta manovrina estiva e c'è la positiva notizia che si libera un tesoretto da 203 milioni di euro. Andranno ad infrastrutture e sociale secondo quanto predisposto dalla giunta Fedriga. È stato reso disponibile infatti l'avanzo di amministrazione ma in aula è scoppiata una nuova bagarre. Il PD dice è una nostra eredità e il governatore risponde Fedriga a ridicolo merito della mia giunta. Poi i temi legati alla scuola con l'esecutivo che si schiera con i 300 maestri è ascritto al Ministero dell'Istruzione. C'è anche il richiamo con l'agroalimentare che viene destinato come materia di gestione a Promoturismo FWG rispetto all'ERSA a scintille sulla riforma. Continuiamo con le pagine interne del messaggero e andiamo ad approfondire altri temi come la Camera di Commercio Unica che continua a tenere banco anche a livello politico. Bolzonello, l'ex vicepresidente Attacca, era meglio aspettare il dibattito in aula di domani. L'assessore Bini spiega che è un atto dovuto secondo la legge. Questo sul decreto varato ieri per evitare la fusione. Le categorie della destra tagliamento, lo ricordiamo, hanno ingaggiato una vera battaglia territoriale. L'economia abbiamo visto in apertura l'addio di Ermacora, presidente regionale dell'Accol di Retti che saluterà giovedì la nuova elezione del suo successore e lascia con questo appello imprese agricole troppo piccole si faccia squadra. Dopo dieci anni cambia il presidente, regione carente nel ruolo di indirizzo, filiere mai realizzate. Queste le dichiarazioni di Ermacora che poi aggiunge c'è assoluta necessità di infrastrutture in rigue, la Giunta investa 350 milioni nel tempo. E questi alcuni degli scatti con Ermacora tra Vini Italy e la sua azienda di famiglia. Andiamo sulle pagine cittadine della Messaggero Veneto perché continua a far discutere via Mercato Vecchio. Ieri e nei giorni scorsi sono state tracciate le segnaletiche orizzontali dei parcheggi degli autobus, le prime auto hanno già iniziato a sostare e già un parcheggio ai passanti non piace. Meglio senza auto, la riapertura al traffico è prevista tra una settimana ma al colpo d'occhio già regala uno scorcio di quello che accadrà. C'è anche il richiamo alla proposta lanciata su Facebook dall'ex Assessore Venanzi che dice chiudiamo via Poscolo nei weekend e rendiamola pedonale. Il Sindaco Fontanini nel frattempo ieri ha incontrato di persona il nuovo prefetto come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi il debutto di Angelo Ciuni a Udine e ha chiesto aiuto per le multe della ZTL. Anche questo è un tema che avevamo affrontato nei giorni scorsi nei nostri TG. Il Sindaco lo ha informato appunto delle 30 mila contravvenzioni per la zona traffico limitato. Ciuni ha spiegato il numero così elevato di sanzioni, fa capire che qualcosa non ha funzionato. Vedremo dunque quale potrebbe essere la risposta alla soluzione che arriverà dalla prefettura. La cronaca cittadina spacca gli specchietti delle auto in sosta e aggredisce i carabinieri. È stato denunciato un giovane originario di Pordenone che ha dato escandescenza tra via Carducci e via Quileia danneggiando diverse vetture. Queste sono alcune delle immagini proprio del fermo dell'uomo. Andiamo ancora avanti con le pagine interne del Messaggero Veneto. E vediamo anche l'appello del Vescovo. I politici puntino sull'impegno e non sugli slogan Monsignor Mazzocato alla presentazione della SPES, la scuola di etica promossa dalla Curia, un percorso di alta formazione dell'Arcidiocesi rivolto ai giovani. Lasciamo il Messaggero Veneto e ci spostiamo ora sul gazzettino dando un'occhiata innanzitutto alla prima pagina nazionale. Poche maestre scuole a rischio, mancano oltre 1600 insegnanti. Zaia scrive al ministro Bussetti, situazione gravissima, un sistema in crisi anche in Frui Venezia Giulia mentre Bolzano avvia un suo piano di assunzioni. Abbiamo anche il commento in prima di Carlo Nordio che racconta dei danni creativi della Corte Europea di Giustizia. A centro pagina invece Atene divorata dalle fiamme, cento i morti. E questa è un'altra immagine dei Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento. Poi c'è una storia che arriva da Venezia, una Rom costretta a rubare per riscattare la figlia rapita da altri nomadi. Una storia davvero allucinante, la bimba sequestrata dai parenti dell'ex marito per saldare un debito di gioco. Veniamo alle pagine interne, quelle dedicate alla Friuli. Il titolo di apertura è dedicato all'operazione dei carabinieri di Palmanova che hanno sgominato la rete dei colombiani. Si fingevano pazienti o visitatori per entrare negli ospedali, poi rubavano costose apparecchiature per spedirle all'estero. L'indagine era dei carabinieri, durata quasi due anni, era partita da un furto messo a segno proprio all'ospedale di Palmanova. Di taglio alto alcuni richiami sulle notizie. La regione, l'assestamento, la giunta che sblocca 200 milioni di euro e poi in via Manin gli stalli blue ticket a 1,50 euro per i residenti. A centro pagina invece la foto racconta di un pezzo all'interno del quotidiano dedicato alla chirurgia estetica. L'uomo frullano cede alle punturine in aumento del 50% il botulino anti-rughe. C'è un'intervista a Robionil, primario del dipartimento maxillo-facciale di Udine. E poi ancora a proposito di incendi, bosco a fuoco sul monte Picciat tra le province di Udine e Pordenone. Nei pressi del monte Verzegnes ci sono volute ore per circoscrivere le fiamme vigili da tutta la regione. A proposito poi di scuola, a livello locale la mobilitazione per salvare 300 posti, mentre sul fronte autostrade c'è un vertice agostano tra Fedriga e l'Eiscat per valutare il futuro della gestione delle autostrade. Abbiamo anche il richiamo alla vittoria ieri dell'Udinese nella quarta amichevole precampionato in Carinzia. Un Udinese convincente si è imposta per 2-0 contro il Volksberger. Ne parleremo ampliamente tra poco nella pagina sportiva. Andiamo all'interno per approfondire alcuni di questi articoli promossi dalla Gazzettino su Via Manin. Per esempio si parla di ticket polemiche. La sospensione del regime di zona traffico limitato ha riportato le strisce blu e la tariffa sarà a 1,50 all'ora. I residenti finora potevano utilizzare gli stalli bianchi. I negozianti temono che la gente non si fermi a comprare. Per quanto riguarda invece gli steward a Udine, il sindaco annuncia che arriveranno all'inizio del nuovo anno, ma De Monte critica. Fontanini confonde Udine con un concerto. Andiamo ad affrontare anche i temi di politica regionale. Ritroviamo la manovra estiva e lo sblocco dei 203 milioni di euro. La giunta regionale ha reso disponibili gli importi che andranno a infrastrutture, edilizie, ambienti, sanità e lavori. L'assessore Zilli un emendamento dirompente per il territorio. Fedriga che replica al PD ridicolo che voglia prendersene il merito. Sul capitolo autostrade invece andiamo ad approfondire questo pezzo. A firma di Maurizio Bait, sempre attento alle questioni delle società delle autostrade. Un vertice d'agosto per salvare la gestione della rete. In agenda un incontro tra il governatore e i vertici ISCAT, l'associazione delle concessionarie. Perché c'è una condizione di stallo al ministero, nessuno sta trattando con nessuno. Ci spostiamo sulle pagine porrenonesi del Gazzettino per questa storia che arriva da Budoia. Un viaggio di nozze in bici fino a Londra. A realizzarlo Francesca Giannelli e Massimo Scussat, dopo 25 anni di convivenza, si sono sposati. Un amore nato sui pedali. Così hanno deciso di percorrere 1700 chilometri per festeggiare. E vedete l'immagine dei due con la loro bici pronti per arrivare sino a Londra, passando per Parigi. Chiudiamo con questa notizia che avevamo trovato prima sul Gazzettino Friulano. L'estetica e le nuove tendenze impazza il lifting del fine settimana. Chirurgia mini-invasiva in aumento del 40%, botuline e ponturine in crescita esponenziale. Robbioni che dice che fino a 4-5 anni fa gli uomini non ricorrevano alle iniezioni di acido ialuronico. Adesso sono più portati. E c'è anche il boom delle imprese che si occupano di bellezza. Le superciglia l'ultimo grido. La crisi ha anche cambiato il ritocchino. Sempre meno ventenni si rifanno il seno. Questa è una panoramica dedicata dal Gazzettino al tema estetica. Torniamo sul Pordenonese con le pagine del Messaggero Veneto. Vediamo l'apertura cittadina dedicata alla città del Noncello. Eccola qua. Una nuova piscina comunale, doppio ricorso, caso Altar. Prima e seconda classificata contro il Comune. In balla un appalto da 18 milioni. Arca, scalzata dalla vetta del diritto di prelazione di Cuma, fanalino di Coda. C'è un braccio di ferro sulla piscina della città. C'è poi un emendamento di Marapiccini in regione che dice Bahia spunta il piano per riaprire le porte al Mondiale sui Magredi. Queste le notizie che ci arrivano da Pordenone. Ci spostiamo ora sul piccolo, l'edizione triestina che apre con il tesoretto della regione. Un tesoretto ritrovato, liberi 200 e 3 milioni. Dopo l'ok della consulta sul ricorso della giunta a Serracchiani, Federica potrà spendere le somme lite su chi si può attribuire il merito di questo provvedimento. Poi anche il piccolo propone una foto che ci riporta gli incendi nei boschi attorno ad Atene. Migliaia in fuga. La stima è di 100 morti. Andiamo all'interno per le pagine di politica del piccolo. Ritroviamo appunto il tesoretto con l'immagine di ieri della seduta del Presidente Federica. L'assessore Zilli spunta un tesoretto da 203 milioni, scontro sui meriti del Via Libera. I soldi erano quelli fermi per i vincoli del pareggio di bilancio, decisive due sentenze emesse dalla consulta. Sulla fronte Ersa invece si cambia pelle, sarà ceduto a promo turismo il marketing e l'ospitalità via lo spacchettamento dell'agenzia, confermata la tutela dei prodotti tipici, così dice Ebini. Dal piccolo di Trieste andiamo a dare un'occhiata anche all'edizione dell'Isontino di Gorizia e Monfalcone. All'interno la pagina dedicata proprio al capoluogo Isontino ci presenta questa notizia, la guerra delle ciclabili che è scoppiata in centro sulla viabilità, baristi e ferricorti con i ciclisti ribelli, dal Torino al Class Cafè. Convivenza impossibile tra sedi e tavolini e bici, l'assessore Ceretta dice risolveremo tutto. E poi la questione dei buoni pasto inutilizzabili dai 350 dipendenti delle poste. I locali e i supermercati di Gorizia non accettano più i ticket della Qui Group S.p.A. perché non vengono rimborsati dalla ditta Ligure Dure, le proteste della SLP CISL. L'apertura invece di Monfalcone, sempre del piccolo Fincantieri, punta sulle navi a gas naturale e il terminal importo diventa una priorità. Centinaia di cisterne per il pieno, l'imprenditore Vescovini dice, pronti a riproporre un deposito costiero di dimensioni ridotte. Vedete anche una delle immagini del porto di Monfalcone e dei cantieri, della Fincantieri. 50 milioni di investimenti sul territorio di Vescovini, del gruppo Vescovini dal 2017-2018. A sinistra invece vedete la Majestic Princess in alto, l'area del cantiere di Panzano. Un lavoro garantito per il territorio per dieci anni con questo pieno di ordini di navi, grazie a Fincantieri. Ci fermiamo qui con questa prima parte di Buongiorno Friuli. Tra poco ci ritroveremo per parlare di sport, di Udinese. Vi mostreremo gli highlights della partita di ieri e andremo ad approfondire. Dunque il proseguo di questo precampionato bianconero. A tra poco. Grazie a tutti.